C'è un rapporto consolidato di collaborazione fra la Prefettura di Genova e l'Anci Liguria come organismo rappresentativo di tutti i comuni che sono il punto di riferimento fondamentale della Prefettura nella gestione di tantissime problematiche. Quindi c'è una profonda sinergia fra queste due istituzioni. Su questo tema, su quello della sicurezza, il confronto è iniziato circa un anno fa dopo le direttive che sono state emanate dal Ministero dell'Interno e che hanno rafforzato la necessità che le manifestazioni pubbliche avvengano in una cornice di sicurezza. Questo ha portato ad un confronto costante perché la Prefettura da un lato ha accolto sempre più frequentemente al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i sindaci che avevano necessità di discutere e confrontarsi sull'organizzazione di eventi con un'affluenza media, grande di persone. Dall'altra parte l'interesse della Prefettura a standardizzare queste procedure in modo da non lasciare gli amministratori pubblici di fronte ad un evento nell'incertezza di quelle che sono le attività da porre in essere. In questo senso è stato fondamentale il contributo delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco che sono pertanto entrati a far parte in maniera stabile del Comitato proprio per dare quel contributo di esperienza in campo tecnico per supportare i comuni. A conclusione di questo percorso che è durato parecchi mesi la Prefettura ha emanato una direttiva che è ancora oggi oggetto di approfondimento, di vaglio, di sperimentazione però per standardizzare. Da un lato manifestazioni con eventi fino a 200 partecipanti che hanno una gestione molto semplificata rispetto ad altri eventi e poi con una graduazione di interventi che è crescente a mano a mano che la manifestazione diventa più complessa e coinvolge un numero maggiore di partecipanti e di spettatori. Ci tengo a ribadire che non abbiamo nessuna volontà di mortificare quelle che sono o ridurre o far diminuire tutte quelle che sono le iniziative che vengono fatte sul territorio a livello di fiere, sagre perché costituiscono espressione della cultura di questo territorio. Sono un fattore di coesione sociale molto importante e quindi l'interesse della Prefettura è affiancare i comuni, aiutarli nel trovare delle soluzioni pur essendo consapevoli che chiaramente l'applicazione in maniera rigorosa di norme che peraltro già erano esistenti comporta dei costi aggiuntivi per i comuni. Quindi noi siamo chiaramente vicini e con un tavolo costantemente aperto per poter supportare i comuni e cercare di avvicinarci sempre più ad una sicurezza che sia condivisa. Noi abbiamo spesso usato il termine prevenzione collaborativa che ci piace, che mette l'accento sulla collaborazione per rafforzare la prevenzione.